L'agenza lavoro nell'area euro. La crisi finanziaria sta facendo pagare un prezzo molto pesante a chi cerca un'occupazione nei 17 paesi della moneta unica. Secondo l'Ocse, il tasso dei senza lavoro a maggio è stato dell'11,1%, il dato più elevato mai registrato. Con 48 milioni di persone in cerca di un impiego, la disoccupazione raggiunge un livello record. Cinque anni fa, prima dell'inizio della crisi, ce n'erano ben 15 milioni in meno. Venendo all'Italia, l'organizzazione internazionale prevede un ulteriore rialzo del tasso di disoccupazione l'anno prossimo. Buone le riforme del governo Monti che ridurranno gli effetti nefasti della recessione, ma attenzione a non abbassare la guardia perché un giovane italiano su due è precario. Lancia l'allarme di disoccupazione anche il Fondo Monetario Internazionale, per cui l'anno prossimo raggiungerà un tasso dell'11%, nonostante il fatto che l'Italia finalmente uscirà dalla recessione sempre nel 2013. Da Washington si chiedono più tagli alla spesa pubblica e meno tasse nel meglio termine. Per l'immediato bene la spending review, ma comunque ci vogliono nuove riforme per dare competitività al nostro sistema economico. Lo studio del Fondo Monetario riconosce che l'agenda del governo Monti è ambiziosa e che la situazione delle nostre banche migliora, ma avverte il rischio contagio, sussiste ancora.